Una Trento chirurgica è riuscita a conquistare la finale di Champions League. Due set occorrevano ai ragazzi di Mister Lorenzetti per avere il ragione di Perugia e così è stato. Il match è terminato al tie-break, vinto dagli Umbri. Un successo effimero con i trentini che avevano giustamente iniziato i festeggiamenti già alla fine del quarto parziale. Nel corso della partita le due squadre hanno mostrato tutti i loro punti di forza, ma anche i limiti. Perugia, consapevole di non poter sbagliare nulla dopo il 3-0 subito all'andata, è partita con il Turbo, sciogliendosi poi come neve al sole alla prima difficoltà. Trento, nei primi due set, ha subito i colpi dei giocatori di maggior classe degli Umbri. Primo fra tutti Leon, miglior realizzatore con 21 punti messi a referto. 25-22 il primo set per i padroni di casa, 25-17 il secondo. E anche nel terzo si stavano addensando nubi nere sull'Itas, con Perugia che sembrava destinata a un facile 3-0 per poi giocarsi tutto nel Golden Set, forte di una serata fin lì perfetta. Ma improvvisamente la partita è girata e un turno al servizio di un sorprendente Micheletto ha cambiato tutto. È qui che è uscito il vero pregio di Trento, squadra compatta che appena vede la possibilità di giocarsela non molla un punto. E così è stato, 23-25 il terzo parziale per i trentini e un veloce 17-25 a chiudere i giochi. Ennesimo blackout per Perugia ed ennesima prestazione corale da applausi per Trento. Adesso lo sguardo è puntato al primo maggio, giorno della finalissima. L'Itas in un certo senso se la giocherà in casa perché il match è in programma a Verona. Dall'altra parte della rete ci saranno i polacchi del Krozzle, capaci di eliminare prima Civitanova e poi al Golden Set i russi del Kazan. Krozzle che è allenato da una vecchia conoscenza dell'Itas, Nicola Gerbic. Sono molto contento perché il terzo set siamo usciti veramente da un buco molto piccolo e quindi sono contento di come abbiamo sofferto tutti insieme, tutti insieme veramente. Non ci sto ancora credendo, ho un'emozione addosso molto forte. Grazie a questa società, a questi compagni oggi è stata una battaglia perché sotto 2-0 era quasi impensabile riuscissimo a vincere questi due set che ci servivano per il passaggio ma l'abbiamo fatta. Ci hanno messo sotto, poi pian piano abbiamo recuperato sia tecnicamente che come idea la battuta e la vittoria alla fine sofferta del terzo set ci ha dato quello spirito un po' in più per affrontare un quarto set.